la palla di cristallo grimm c'era una volta una maga e aveva tre figli che si amavano fraternamente ma la vecchia non se ne fidava e pensava che volessero spodestarla allora trasformò il maggiore in un'aquila che abitava sulle rocce e talvolta la vedevano alzarsi e scendere a volo roteando nel cielo con le ali distese il secondo lo trasformò in una balena viveva in alto mare e si vedeva solamente l'enorme zampillo che ogni tanto gettava in alto entrambi avevano il loro aspetto umano soltanto per due ore al giorno il terzo figlio temendo che la madre trasformasse anche lui in una bestia feroce in orso o in lupo partì di nascosto ma aveva sentito dire che nel castello del sole d'oro c'era una principessa stregata che aspettava la liberazione ma bisognava rischiare la vita già ventitré giovani erano morti miseramente e uno soltanto poteva andarci ancora e poi più nessuno poiché il suo cuore non conosceva la paura egli risolse di cercare il castello del sole d'oro era in giro già da un pezzo e non era ancora riuscito a trovarlo quando capitò in un gran bosco e non sapeva come uscirne un tratto scorse in lontananza due giganti che gli fecero un cenno con la mano e quando egli li raggiunse gli dissero lottiamo per un cappello a chi debba appartenere e poiché siamo di qual forza nessuno di noi può vincer l'altro i piccoli uomini sono più saggi di noi e perciò vogliamo rimetterti la decisione come mai litigate per un vecchio cappello disse il giovane tu non conosci le sue virtù è un cappello magico chi se lo mette dovunque desideri andare c'è belle arrivato datelo a me disse il giovane farò un pezzo di strada e quando vi chiamo mettetevi a correre chi arriva prima lo avrà si mise il cappello e se ne andò ma pensò alla principessa dimenticò i giganti e continuò a camminare un bel momento emise un sospiro dal profondo del cuore ed esclamò ah se fossi al castello del sole d'oro e come gli uscirono di bocca queste parole si trovò su un alto monte davanti alla porta del castello entrò e attraversò tutte le stanze finché nell'ultima trovò la principessa ma come inorvidì al vederla aveva una faccia color cenere piena di rughe occhi torbidi e capelli rossi siete voi la principessa di cui si esalta la bellezza in tutto il mondo esclamò ah e la rispose non è questa la mia figura gli occhi degli uomini possono vedermi soltanto così brutta ma perché tu sappia qual è il mio aspetto guarda nello specchio che non si inganna e ti mostra la mia vera immagine glielo porse ed egli ci vide riflessa l'immagine della più bella fanciulla che fosse al mondo e vide che dalla tristezza ne scorrevano le lacrime giù per le guance allora disse come fare per liberarti niente mi fa più paura e la disse chi si impadronisce della palla di cristallo e la tiene davanti al viso del mago spezza il suo potere ed io riacquisto il mio vero aspetto ah soggiunse già tanti hanno trovato la morte in questo mi fa pena che tu così giovane ti esponghi a quei gran pericoli nulla potrà tenermi egli rispose ma dimmi cosa devo fare saprai tutto disse la principessa se scendi dalla montagna dov'è il castello in fondo accanto a una sorgente troverai un bisonte selvaggio con cui devi lottare e se riesci ad ucciderlo vedrai uscirne alzandoci a volo un uccello di fuoco che ha nel suo corpo un uovo ardente e nell'uovo al posto del cuorlo c'è la palla di cristallo ma l'uccello non lascia cadere l'uovo finché non vi è costretto e se l'uovo cade a terra incendia e brucia tutto quel che c'è intorno e anch'esso si strugge insieme con la palla di cristallo e tutta la tua fatica è stata vana egli scese alla sorgente dove il bisonte l'accolse sbuffando e mugendo dopo una lunga battaglia il giovane gli cacciò la spada nel ventre e il bisonte stramazzò subito si levò dal suo corpo un uccello di fuoco e stava per volar via ma l'aquila il fratello del giovane che veniva attraverso le nubi gli piombò addosso e lo cacciò verso il mare spingendolo col becco così che in quel pericolo l'uccello lasciò cadere l'uovo l'uovo non cadde nel mare ma su una capanna di pescatori presso la riva e subito la capanna prese a fumare e stava per incendiarsi allora nel mare si levarono le onde alte come una casa si rovesciarono sulla capanna ed omarono il fuoco l'altro fratello la balena era arrivato a nuoto e aveva sollevato le acque quando l'incendio fu spento il giovane cercò l'uovo e per buona sorte lo trovò non era ancora liquefatto ma il guscio raffreddato all'improvviso dall'acqua gelida era tutto in bricioli ed egli ne trasse intatta la palla di cristallo quando il giovane andò dal mago e gliela tenne davanti al viso il mago disse il mio potere è distrutto ed ora in poi tu sei re nel castello del sole d'oro e puoi anche restituire l'aspetto umano ai tuoi fratelli allora il giovane corse dalla principessa e quando entrò nella sua stanza e la gli apparva in tutto lo splendore della sua bellezza e i due giovani pieni di gioia si scambiarono gli anelli grazie